Non vuoi essere Thomas nel mio senso di chiedere, ma non è già adesso. Nome? Thomas. Gino. Soprannome? Gino. Thomas. Duolo. Gino. Thomas. Da quanti anni si è andato per la canestra di crema? Faccio l'università da 4 anni e mi devo laureare a breve in ingegneria. Faccio il bagnino da 15 e mi devo laureare in bagnino. Un pregio e un difetto dell'altro? Allora, sono nato che avevo 45 anni e tutt'ora ne ho 45. Non mi ricordo dove sono tutto il giorno, boh, alla sera ancora di più. Quali sono state le cause scatenanti della prima guerra mondiale? Gino. Thomas può essere. Drink preferito? Gino. Selma. Chi vincerà secondo te l'NVP della serie B? Ciccio. 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 Descrivi con un aggettivo il tuo allenatore. Baldo. Non ho capito. Fatto. Ok. Chi è il tuo maestro? Lì, ma è Gino. Descrivi il tuo capitano in tre aggettivi. Ecco. Tre. In tre? Figa. Difficile questo. Allora. Dirigente. Autorevole. Accompagnatore. Esatto. E aggiungerei Gino. Vabbè. Ok. Abbiamo detto. Perché tu? E io ho detto accompagnatore, scusa. Cioè, tu cosa sei detto? Autorevole. Gino. Si, ma è vero fatto. Autorità. Autorità. Allora. Chi gioco più giallo in squadra? Pasqua. Tu è il capitano. Colore preferito? Gino. Razza di gatto preferito? Razza di gatto preferito. Ma che cazzo di domande stai facendo? Incredibile. Ma che cazzo di domande? È una razza. Razza incredibile. Concludi la frase. Se avessi avuto la voglia avrei giocato in? Al bancone. Eh, in serie B. Lo scrivi con un aggettivo Ciccio Trimboli. Ciccio. Punto. Basta. Anzi, vorrei aggiungere una cosa. Montenegro. Spettacolo. Racconta un allentoto di Nini. Di? Di Nini. Di Nini. Nini. Eh, poverete. Mi spiace. Madonna. Quando ha fischiato cambio. Il campo. In prezziato il campo. Non ha mai il telefono, mi spiace. Tutte le volte che andiamo in trasferta... Sparisce il telefono. Mi fregge il telefono. Tengono il telefono. Cosa pensi delle ragazze della squadra femminile? Gino. Thomas. Cosa ne pensi del tifo cremasco? Eh, fantastico bene. Che si fa? Colorato. Chi gioca di più con le saponette in doccia? Liber. Sì, anche secondo me. Liber. Non avevo dubbio. Si muciverà. Chi è il più religiosi in squadra? Liber. Io potrei ostentare anche un mio. Thomas. Queste miare non vale, eh? No? Cosa deve... No. Saluta l'altro senza usare vocali. Gino. Sono vocali. T-H-A-M. Eh, senza vocali. Qual è la differenza con cali consonanti? Mi manca. Non lo so. Bene. Voi gli uvori di Natale. Auguri. Minchia. Auguri mi suicido. Tanti auguri. Tanti auguri a tutta la SD Cremasca Basket. Ah! Ah! M. M. M.